Expo Sanità 2024, siamo allo stand di All Mobility in compagnia di Paolo che ci racconta quelle che sono le novità, i prodotti di punta che l'azienda porta quest'anno in fiera. Buongiorno, la nostra azienda qui a Expo Sanità ha piacere di presentare il nuovo catalogo ausili che contiene all'incirca 1200 soluzioni per l'autonomia e la mobilità, catalogo diviso in varie sezioni tematiche a seconda delle caratteristiche dei prodotti, questo catalogo è presente sul sito internet allmobility.it ed è scaricabile integralmente o diviso in sezioni. Queste soluzioni sono fornite sul territorio nazionale agli utenti grazie a una rete di ortopedie sanitarie, quindi di partner specializzati sul territorio che possono fornire assistenza pre vendita e post fornitura. Qui abbiamo portato allo stand alcune soluzioni appunto presenti in questo nuovo catalogo e per cui penso che adesso ne vedremo alcune nel dettaglio. Per Expo Sanità 2024 abbiamo presentato in fiera alcune novità relative alla sezione vita quotidiana, è una gamma che da anni gestiamo con ottimi risultati, pronto magazzino e tra queste novità le principali sono le posate per tremori genno, posate per utenti parkinsoniani fornite in due diverse versioni, la versione classic e la versione twist. Mentre la versione classic ha il movimento che compensa quello del braccio di utenti appunto con difficoltà motorie legate alle arti superiori, la versione twist è dotata di una rotazione aggiuntiva della testina. Le testine sono intercambiabili e lavabili in lavastoviglie. Altra novità che abbiamo presentato in fiera sono le posate con impugnatura snodata, posate snodics fornite in versione cucchiaio, coltello e forchetta. Le posate consentono di regolare l'impugnatura alle esigenze dell'utente e di consentire l'utilizzo della posata stessa con il palmo della mano aperto. Questo è un vantaggio notevole per chi ha difficoltà nella presa di oggetti. Un'ulteriore novità che abbiamo presentato è la forchetta coltello 2 in 1 free hand, un articolo di produzione italiana, un articolo che consente appunto di sminuzzare gli alimenti e di portarli alla bocca perché allo stesso tempo è un coltello e una forchetta attraverso un semplice movimento ovvero la chiusura del palmo della mano. Presentiamo il sistema 2DOO, è un sistema innovativo che permette, vedete questo è il motore, di rendere elettrica una carrozzina manuale. L'attivazione del sistema avviene attraverso questa leva che manda il rullo del motore a pressione sulla ruota della carrozzina, in questo modo attraverso la guida con joystick ottengo da una carrozzina manuale l'elettrificazione che dà maggiore autonomia al paziente sia all'interno del domicilio che anche in ambienti esterni. Tutto il sistema è dotato di una batteria a litio che ha un'autonomia di 8 km, la batteria è compatibile anche per il trasporto in aereo, il sistema ha un joystick che è retraibile che permette anche l'avvicinamento al tavolo, attraverso una calamita viene riposizionato nella sua posizione e la carrozzina rimane pieghevole per cui in qualsiasi situazione si può piegare la carrozzina per il caricamento in auto, vedete con un peso limitato che permette di ottenere maggiore autonomia attraverso il motore senza pregiudicare la leggerezza e la facilità di caricamento in auto. Passiamo ora alla Passpartout, è una carrozzina elettronica pieghevole di ultima generazione, la caratteristica principale della carrozzina è la leggerezza, infatti questa carrozzina pesa 17 kg, senza le batterie arriva a pesare 15 kg. Il sistema di piegatura è molto molto semplice immediato come possiamo vedere, la carrozzina si ripiega, nel momento in cui viene piegata rimane in posizione attraverso il ruolo di antirribaltamento ed è facilmente caricabile in automobile. Oltre alla leggerezza la maneggevolezza è una delle caratteristiche principali e anche il costo perché è in assoluto una carrozzina di proporzione adeguata ai valori di mercato di tutte le carrozzine elettroniche. Maniglioni a ventosa Rottmobeli di produzione tedesca, distribuiti in Italia da All Mobility da circa 15 anni. Sono maniglioni che consentono di spostare l'ausilio a seconda delle esigenze che possono variare del tempo anche per esigenze differenti da parte dello stesso utente. O comunque possono essere portati in viaggio anche all'interno di strutture che non hanno adattamenti per il bagno. Sono disponibili in diverse versioni con impugnatura fissa oppure con impugnatura telescopica o come in questo caso nella versione come appoggio accanto ai sanitari quali i WC e BD. I maniglioni sono dotati di indicatore di tenuta, questo indicatore suggerisce all'utente se è il caso di spostare, quindi staccare la ventosa e ricollocarla. Dopo all'incirca 7-10 giorni è necessario spostare, staccare la ventosa e poi riposizionarla perché per effetto della polvere, del vapore acro e della pressione esercitata dall'utente può essere necessario questo movimento. I maniglioni a ventosa mobeli hanno una particolare composizione che consente di fissarli laddove la mattonella sia liscia e non porosa. È necessario che il maniglione non ricada sulla fuga, laddove ci sono delle mattonelle con effetto mosaico è possibile utilizzare queste piastre per avere una superficie idonea per il montaggio. Grazie a tutti!